Una task force contro le buche in strada perché non diventino voragini come è accaduto in via Appia a Roma. Perché a primavera oltre ai germogli fioriscono, aprendosi sotto di noi, anche le buche. Il gelo, la neve, il sale sparso e la pioggia primaverile che si insinua tra le crepe mettono a dura prova gli asfalti delle città. La situazione più grave a Padova e in via Venezia, dove si era aperta una vera e propria voragine. Ma tanto in centro quanto nei quartieri non si contano le strade danneggiate. Da Prato della Valle all'Anello delle Tangenziali. Quattro ditte sono a lavoro nelle strade sulle indicazioni che arrivano anche dai cittadini. Una task force dunque di pronto intervento. I cittadini possono chiamare il municipio, scrivere un'email oppure utilizzare l'app. Nel giro di 24 ore, 48 ore, la buca, quella che costituisce un pericolo, viene coperta. È un servizio importante. Dall'11 marzo sono state segnalate 235 buche. Di queste, 149 sono state chiuse, in attesa che vengono aperti i cantieri delle asfaltature. Intanto è quasi guerra con i cantieri per la posa della fibra ottica. A monitorare la situazione arriva il collaudatore. Un controllore che segue Open Fibra passo passo nelle interventi che fa. Noi chiediamo e pretendiamo il massimo di attenzione.